Clamoroso colpo di scena, signori, che fa discutere e fa notizia per quanto riguarda il rapporto tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne. Lei è stata tronista nella scorsa stagione del dating show di Maria De Filippi e ha scelto proprio lui come persona con la quale iniziare una relazione, una relazione sentimentale. Sono passati solamente alcuni mesi dall'uscita insieme dal programma, ma è già arrivata una notizia pazzesca riguardante i diretti interessati e a riferire ciò è stato l'ex corteggiatore che ha pubblicato una foto decisamente inequivocabile, poi non so, fate voi, potete dire la vostra sotto nei commenti tranquillamente, soprattutto se già conoscete l'argomento. Comunque, a proposito di Veronica Rimondi e Matteo Farnea, lei aveva descritto così recentemente la sua dolce metà, dicendo proprio, servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata. Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono proprio certezze, ma penso, o almeno spero, di aver trovato la mia altra dolce metà. Sì, la metà famosa quella della mela. E grazie a te, perché mi hai fatto scoprire un'altra faccia dell'amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo momento. Dunque, la comunicazione più incredibile su loro due è giunto proprio da lui, che attraverso una story pubblicata su Instagram è riuscito a confermare la notizia più sensazionale che ci sia. In quest'estate, caratterizzata da brutte notizie legate alle coppie VIP, come abbiamo seguito anche il caso di Totti Blasi che stiamo ancora seguendo, tra l'altro, ce ne sono tante di coppie scoppiate, diciamo. Loro però rappresentano decisamente una bella eccezione, perché nonostante sia trascorso poco tempo dalla scelta nella trasmissione Mediaset, hanno già deciso di fare un passo veramente importante. In una Instagram Story, postata pochissimi giorni fa, esattamente il 19, Matteo ha comunicato qualcosa di grande che ha riguardato anche la sua partner Veronica Rimondi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato le loro mani intrecciate, ma fin qui nemmeno nulla di sorprendente, visto che sono una coppia, si sa, chi è che non si prende per mano. Ma sul dito della giovane è stato notato un bell'anello e la didascalia breve, intensa scelta da ragazzo ha fatto poi tutto il resto. Eh sì, ebbene sì, avete capito bene, i due hanno preso l'importante decisione di sposarsi, di unirsi in matrimonio. E allora? Veronica ha ricevuto la proposta di matrimonio da Matteo Farnea e allora quest'ultimo ha annunciato e ha detto she said yes, taggando l'ex tronista, ovvero ha detto sì. Ora non resta altro che aspettare la data ufficiale dei fiori d'arancio giunti davvero in tempi brevi, quindi probabilmente ne riparleremo molto presto, e chissà se non bruceranno ancora di più le tappe concepiranno presto anche un bebè, però forse magari è meglio non correre. Il pubblico intanto possiamo capire che è già in delirio. Questo è tutto per questa notizia, vi ringrazio per l'ascolto come sempre, un saluto grande da Max, se non siete iscritti al canale iscrivetevi o seguite la pagina FB.